I consiglieri regionali PICA, Antonio e Gianfranco Valiante, del Basso e D'Amelio, del Partito Democratico, Oliviere e Mucciolo del Partito Socialista Europeo, Giordano di Italia dei Valori e Leonardo Dell'Udeur, nella seduta di ieri del Consiglio regionale hanno occupato simbolicamente l'Aula, in segno di protesta per l'avvertenza forestazione delle comunità montane, che a tutt'oggi non hanno alcuna certezza circa lo stanziamento delle risorse finanziarie relative al residuo del 2011 e all'intero anno 2012. In un successivo incontro con i consiglieri regionali, il presidente del Consiglio Paolo Romano ha assunto l'impegno di richiedere un incontro urgente con il presidente Caldoro per discutere della problematica e individuare le urgenti determinazioni da adottare. Nella stessa seduta del Consiglio regionale, inoltre, è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno proposto dal consigliere salernitano Donato Pica, condiviso da tutti i gruppi politici di netta contrarietà alle ricerche petrolifere nel territorio del Vallo di Diano da parte della compagnia petrolifera Shell. L'ordine del giorno proposto da Pica impegna la Giunta regionale ad assumere ogni idonea iniziativa per evitare le trivellazioni petrolifere in un'area protetta e da forte vocazione ambientale. Soddisfazione per il voto positivo, oltre che da Donato Pica, è stata espressa anche dai consiglieri salernitani con firmatari Mucciolo e Gianfranco Valiante.